Cavolo, ho davvero bisogno di mangiare! Ehi, stavo per mangiarlo, ma lo do a te che ne hai più bisogno. Sei molto gentile, grazie mille! Non vedo l'ora di mangiare tutto! Ehm, che succede? Tutto bene? Ho tantissima fame, non mangio da settimane. Settimane? Oddio! Lasciate un mi piace ed iscrivetevi se devo dargli il mio cibo! Non ci credo, grazie mille! Serviva più a te, goditelo! Sei la migliore! È bello aiutare le persone! Ma ora, non ho cibo! Le tue cure costano 2000 Robux, se non le paghi non ce la farai! Oh no, ma io non li ho! Aspettate, posso pagare io! Ma chi è lei? Tu hai salvato mio figlio quando era per strada! Oddio, non ci credo, grazie mille! Scrivete nei commenti se ho fatto la scelta giusta! Di pronto! Guardateっ! La domenità tipo 4! Continui t'è Margastica!